Quanti riusciranno ad avere la cittadinanza quest'anno? Più o meno come sempre. Mille, mille e cinquecento. I nostri candidati hanno buona probabilità? Beh, è la commissione che deve esaminare i casi a fondo. Per me ce ne sono alcuni che non danno sufficienti garanzie. Ma i nostri hanno tutti un impiego fisso? No, non tutti. Ci sono dei liberi professionisti, artisti, come quella Vakulic, per esempio. Bodmer. Posso passarle una telefonata? Sì, va bene. Bodmer. Sono la signora Stark. Ah, buongiorno, signora Stark. Come sta, signor Bodmer? Abbastanza bene, grazie, signora. Bisogna mantenersi in forma. Eh, già. Verrebbe a cena da noi? Quando? Possiamo fare per sabato, se le va bene. Un momento, prego. È ancora in linea? Certo, signor Bodmer. Per me va bene, sì. L'aspettiamo, non? Sì, senz'altro. Basta che non si disturbi troppo. Nessun disturbo, a noi piace avere gente. Mi saluti suo marito. Riferirò senz'altro. La ringrazio di nuovo. Arrivederci, signor Bodmer. Arrivederci, signora Stark. Arrivederci. Ah, Fischer, si informi sugli orari dei treni speciali per viene sabato mattina. Bene, signor Bodmer.